Sono interessato l'opinione di Dario Moccia sull'episodio 2 di Dragon Ball Dime, ma io ho visto già il 3. Dario, hai visto la seconda puntata di Dime? L'ho vista, fa cacare la seconda per me, io la penso invece all'esatto opposto. Però scusa... Diciamo che è stata quella che mi è piaciuta di meno delle 3, però è stata una puntata tranquilla. Jet Pistol, ti devo fare di nuovo un culo grosso così, perché Oda ti rivela mezzo nome o ti fa vedere il nasso di una silhouette che ti ha fatto vedere dieci anni fa nel volume 42? Mamma mia, capitolo incredibile, Oda finalmente ha cucinato per Benino, che Godurias ci ha rivelato finalmente questo mistero. La seconda puntata di Dime è solo approfondimento sul war building di Dragon Ball? Eh no, ma si devono pigliare a cazzotti, ma vaffanculo. Beh dai, però Dragon Ball è comunque anche un'opera differente da questo punto di vista, perché Dragon Ball non lo segui per la trama. Cioè faccio un esempio, la saga di Selle degli androidi è piena di incongruenza dal punto di vista logico, proprio di viaggio del tempo. Non lo segui per la trama, lo segui per gli scazzottamenti, per le trasformazioni e queste robe qui. One Piece non lo segui per la lotta, lo segui per altro. Quindi dipende, secondo me, dal contesto del manga che stai leggendo o dell'opera che stai guardando. E concordo invece con lui sul fatto che la seconda puntata è stata un bellissimo riferimento al war building generale di Dragon Ball. Faccio un esempio classico, il bastone che torna, dopo tanta tanta roba. A questo punto ragazzi dovete andare a fare incongruenza. Cos'è Sandland? Ipocriti di merda, quando si parla di One Piece va tutto bene. Quando si parla di Dragon Ball, eh no, però il cazzotto non gliel'ha ancora dato, lì ci stava. Ma vaffanculo veramente, grazie Jojo, grazie Gabriele. Non ho capito niente. Anch'io, anch'io. Io finalmente... Ah, sempre Toriamo, ok. Hai detto, basta cazzotti, raga, è 30 anni e si danno azzotti. Ecco, esatto, questo può essere, però vedi, dicendo questa frase, ammetti che Dragon Ball è cazzotti. O comunque, quello che noi chiamiamo Dragon Ball Z. Basta, parliamo della mia creatura, parliamo del war building. Finalmente Namecciani stanno diventando la razza più importante nel mondo di Dragon Ball. No, no, chiacchierano troppo, troppi gli altri. No, ma infatti a me sta convincendo, dai. Ma Popo, Popo, secondo me è Demo. Grande Popo, grande Popo, ribildato completamente. Hanno voluto togliere anche quel lanone di razzismo, probabilmente, no? Voi l'avevate immaginato così, ma Popo è un demone, no? Di cosa stai parlando? Demone. No, lo è, no, secondo me. Questa non è tutta la roba mia, amore? Sì, sì, questa è tutta la roba mia. Ah, sì? Ah, perché sono due spiedini, vabbè. Ma a me che cazzo me ne frega, io mi seguo sulle formichi mere. Che comunque non c'entra un cazzo. Ragazzi, è che voi vi siete abituati male, vi siete abituati male a un Dragon Ball che a Toriyama non interessava più raccontare. Eh, questo è molto vero, secondo me. Poi di sicuro si fa... Sbuto. Fanno a cazzotti più avanti. Sicuro... Sai che non lo so quanto sarà cazzotti questo Dragon Ball? Ma è il Toriyama dei nuovi tempi, cioè 30-40 minuti di situazioni e poi cazzotti, ma... Cioè, mi sembra più un Dragon Ball da ironia che da cazzotti. Cioè, Goku è scemo in culo, lo vediamo nel terzo episodio, veramente scemo in culo. E credo che sia necessario semplicemente abituarsi a un tipo di opera con i protagonisti di Dragon Ball, ma diverso da quello che conoscevamo prima. Molto più vicino al primo Dragon Ball. Prima ti vuole raccontare. Non ha affatto super Toriyama, l'ha fatto Toei! Dio Cristo! Toriyama mi hava l'assegno. Oh! C'ha colpa anche lui, eh? C'ha colpa anche lui, eh? Eh sì. Eh, mi piglio l'assegno, mi piglio i soldi, sono super contento, ci metto la firma e fa due ore lezioni a Toyotaro. Anche perché in realtà sta facendo una copertura incredibile sta retconnando completamente tutto quello che si è detto in super con Daima. Veramente un sacco di robe. Dai Kaioshin, la nascita dei frutti, degli alberi, alla fusione con i Potara. Cioè, sta coprendo tutto quello che in super magari gli aveva dato un po' noia. Eh no! È anche se è stata sua responsabilità. Dimmi, amore, dimmi. Però oggi c'hai da fissa di infiltrarti dentro, aspetta almeno che finisca, dimmi. Dimmi, amore. Che hai detto è l'ultimo Toriyama, però in realtà secondo me è anche... È il primo Toriyama, certo. Però è anche l'ultimo, è tornato a fare il primo Toriyama. Esatto, è quello che dicevo prima. È molto più simile al primo Drago. Che siamo contenti. Che gliene fregava Toriyama, giustamente. Ora però, secondo me, anche un po' che la sentiva alla fine. Quando l'uomo sente la fine, no? Si dice così. Secondo me a un certo punto ha voluto prendere in mano la sua creatura. E tornare indietro. Sì, ma se ci tiro il calzino. Poi queste magari sono sovrainterpretazioni. Ma tra l'altro non lo so, Toriyama l'ha finito. Dai ma. Cioè l'ha finito lui, è riuscito a finirlo. So che ci stava lavorando prima della scomparsa, ma è riuscito a finirlo. Però il primo Toriyama non era Spiegoni. Benissimo, benissimo. Poi c'è Bulma appena arriva, rincoglionisce Goku con la sfera a quattro stelle. Perché se ti ascerrono, che ti dai, e cosa il Drago Radar, le capsule. Comunque la trama è tutta sua. Poi si spiega tutto. È vero, è vero. C'è ragione di dare. Quando incontrano O'Long, quando ti spiegano come funziona la trasformazione, le robe. C'è tutto il corpo un plottone. Oscar. Figlio dell'adattamento Mediaset. Oscar. Sì, è l'ultimo regalo che ci ha lasciato. È solo spiegazioni. Poi a un certo punto sgama il trucco, gli dà un cazzotto. Fine di O'Long, eh. Oscar. Il pebone del toro che ha preso fao tutto. Al satan. Il ventaglio, la vita eterna. Era questa roba qua. Era questa roba qua. Solamente situation comedy. Risate. Cazzate. Ogni tanto un cazzottino, ma... Sono contenti. Io sono contento. Ma anch'io, perché chi ha apprezzato il primo Dragon Ball sarà contento per forza. Cioè, è difficile non essere contenti di un prodotto del genere. E se torna bambini, nel vero senso della parola, poi io ho apprezzato di più lo Zeta. Quello che è chiamato Zeta. Però non significa che non abbia apprezzato il primo. Anzi, senza quello non sarei mai arrivato a godermi il Zeta. Io sono contento. E anch'io. È bellissimo. È affascinante. È fiabesco. Sta roba, tutto basato sulla magia. Anche l'aereo. Vola a magia. E demonio. Io sono solo che è felice. Sembra la prima stagione del primo Dragon Ball. Infatti, sono contento. Ma il problema, ragazzi, è che alla gente non piace quel Dragon Ball lì. Non lo vuole. Venti sono. Non lo vuole. Vuole di nuovo i cazzotti. Quindi se Oda fa le spiegazioni non va bene, ma se le fatto richiama... Sì, qui però stai facendo il classico. La malattia, l'ho sempre detto, la malattia del nuovo millennio. Lo cherry picking. Cioè, prendere una cosa vera, prendere una cosa falsa, incastronarla e buttarla di fuori così. Io non ho detto che non vanno bene gli spiegoni. Gli spiegoni li puoi fare, ma me li devi gestire bene, me li devi scrivere bene, me li devi disegnare bene, e me li devi impostare sulla tavola bene. Sì, Dario con Toriyama ce l'ha. Questo Toriyama perché sta correndo troppo e disegnando male. Che è una lettura che secondo me ci può anche stare, e bisogna semplicemente adattarsi al nuovo One Piece. Se mi fai due testine o sì, con The Wall of Text grossi o sì, stai facendo una merda. Stai scrivendo un libro. Invece mi fai una puntata che la guarda dal primo minuto, e arrivo in fondo e non sembrano passati 20 minuti, mi hai fatto una buona scrittura. Cristo di Dio. Lo cherry picking non è questo. Va bene, prendere un fatto dalla mole gigante... Sì, l'ha spiegato malissimo, in effetti. Con Oda, vabbè. ...informazioni di cui stiamo parlando. La mole gigante informazione è saper disegnare, saper sceneggiare, saper impostare... No, in realtà c'è il picking, è prendere un fatto sulla totalità e fare in modo che quel singolo fatto corrisponda al vero, anche se in realtà è solo una cosa. Però vabbè, ammè. A proposito di Shocker, sono i pezzi di Togashi con pace nei piani di Balun. Devo ancora leggere gli ultimi capitoli, quindi non lo so. A me l'unica cosa che ha fatto Storch e Nass è che come scusa per ritornare a vecchio Dragon Ball hanno copiato GT, praticamente. Ma non è vero, in realtà. Cioè, è soltanto il fatto che tornino bambini, ma tornano bambini anche per motivi diversi e in GT ci torna solo Goku e qui tutti. Cioè, è diverso. A me non sembra. Eh no, infatti è diverso. Io avevo questa paura, ma non è così. Il fatto che hanno preso è il fatto che tornano bambini. Ma a me non sembra che abbia copiato GT. Ha copiato un'idea di GT. Non mi sembra così uguale a GT, anzi. C'è tanto GT. No, per nulla. Ok. Vabbè, vediamo. Cioè, di GT c'è soltanto il fatto che Goku torna bambino e per il momento nella prima saga in attesa di Junior, Bulma e Vegeta ci sia un trio diverso dall'originale. In GT era Pan e Trunks e qui è Glorio e Kaioshin. Vedremo. A me sembra che l'unica cosa che hanno preso da GT sono le sfere e appunto il tornare bambini. Tutta quella roba lì. Per me neanche le sfere. Poi non mi sembra che vogliono andare verso quella strada. Ma in realtà ti dico che per me è più intelligente il motivo per cui torna bambino in GT. Perché Pilaf ha evocato il drago. C'è un'ottima coerenza nel fatto che Pilaf voglia Goku ancora bambino perché adesso è troppo forte. Il drago interpreta male il desiderio che non era un desiderio e va ad esprimerlo. Qui in realtà c'è uno che dice attenzione e se questi un giorno dovessero mai venire nel regno demoniaco? No. Fermo, fermo. Facciamo in modo di andare noi sulla terra a rompergli il cazzo e a rapirgli il supremo e poi tornare al regno demoniaco che è proprio il motivo per cui poi loro vanno nel regno demoniaco. Se si fosse fatto i cazzi suoi loro non si sarebbero mai mossi da lì. Quindi è molto più coerente secondo me il motivo di GT. Però amen. Chi se ne frega ragazzi. Cioè bisogna poi prendere il fatto che stiamo parlando di Dragon Ball. Poi se ci pensate GT copiava dal primo Toriyama perché loro che vanno a giro per i pianeti e ci sono le minaccine nei villaggetti è la stessa prima saga delle sette storie di D'Armo. Sì, sì, sì. Non credo che faranno questa cosa in Dai ma poi se la faranno saremo pronti a criticare. Per ora no. Poi voglio dirvi un'altra cosa se Toriyama copia GT che aveva stuprato la sua opera e prende il meglio di GT per trasformarlo in oro io perché mi dovrei lamentare? Esatto. E poi scusate voglio provocarvi un po'. Perché se si copia GT e si tira fuori qualcosa di buono dalle idee buone è ok ma se Super prende il peggio di Dragon Ball Z e lo copia spudoratamente va bene. Io non sono così critico con Super a me non è dispiaciuto. Ci sono state un sacco di cose che mi sono piaciute. faccio un esempio il ritorno dell'ama Fuba dell'onda sigillante quello mi è piaciuto tantissimo o il ritorno di personaggi come Freezer o 17 un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo quelle sono cose che secondo me ci stavano alla grande la saga di Black Goku una saga che non mi è dispiaciuta quindi tutto sommato io con Super non sono così critico. Perché a me non sembra che un torneo di arti marziali tra universi sia molto diverso dagli altri tornei di arti marziali di Dragon Ball a me non sembra che un'ulteriore trasformazione dei Saiyan sia molto diversa dalle altre trasformazioni infatti sulle trasformazioni sì anch'io non adoro il Super Saiyan God Super Saiyan God Super Saiyan mi piace molto mi piace molto l'ultima trasformazione di Vegeta quella basata probabilmente su Hulk non mi piace quella di Gohan mi piace quella di Junior però le trasformazioni non possono essere solo la base di Dragon Ball anche se Dragon Ball è quella roba lì ovviamente ecco il Golden non mi è piaciuto ma il ricicciare fuori i Freezer sì sono il fanservice che mi conquista e vendere gadget sia la cosa migliore del mondo però magari mi sbaglio o tirare fuori i personaggi di film adorati dai fan cioè la resurrezione di Freezer è Mega Charizard è la stessa cosa solo perché adorati dai fan ricicciare fuori Gogeta perché adorati dai fan che bella domenica me la ricordo Goku e Vegeta che si fondono Gogeta che arriva e io che vado a mangiare i tortellini alla panna me la ricordo ancora meraviglioso è stato dei fan in un altro film non canonico quindi boh non lo so Gogeta che prende la manina di Freezer e Freezer se ne va sicuramente sarà serio e parteciperà a questa conversazione perché gli interessa molto dai ma fammi guardare Dragon Ball li faccio dopo i compiti questi che si lamentano solo colori che volevano moro e granola eh sì e punto ma in generale e moro e granola niente che ne pensi che è stato un grande potere sprecato perché c'erano tante idee buone che si potevano sfruttare meglio che sono state sfruttate l'idea dei draghi malvaggi è clamorosa di GT meravigliosa è malissimo quindi io spero che queste idee vengano sfruttate bene non mi lamenterò sicuramente no no lo dicono nel secondo episodio Beppe non siamo diventati bambini non siamo ringiovaniti siamo diventati solo più piccoli è vero infatti si chiama anche se Goku in realtà mentalmente sembra tornato bambino ma Goku mini non Goku bambino vai ragazzi continuo a pensare che ci darà una trasformazione del mondo dei demoni per me daranno una trasformazione soltanto che puoi raggiungere da bambino io un Goku demoniaco lo vorrei vedere però sarebbe bello c'è già nel terzo episodio Goku ha le orecchie triangolari perché Kaioshin con la magia lo rende demone per il grande pesce rosso il grande warp il maestro warp e sarebbe stato bello vedere Goku con quella forma all'interno del mondo dei demoni dove invece proprio la causa scatenante della rissa nel bar dove mangia gli hamburger demoniaco alla Sandland poi non dimentichiamoci ragazzi Sandland di cui parlate prima i demoni sono buoni al massimo sono simpatici quindi quindi va bene anche Majin Buu la prima volta che si presenta è demoniaco ma è buono all'inizio cioè Satan lo convince con i cioccolatini il Game Boy e il cane quindi secondo me pigiamoneoneoneone metto il mio pigiamoneoneoneone non vedo l'ora non vedo l'ora secondo me un Goku demonietto funzionerebbe tanto sì sarebbe bello anche i nameciani sono potentissimi meravigliosi cioè anche quando diventa cattivo Majin Buu è ridicolissimo è ridicolissimo tutto si divertiva proprio secondo me Neva anche secondo me è un pezzo di merda è tipo il grande mago piccolo ma non era morto ah Neva e il nameciano quello che disegnava Dragon Ball commenti incredibili eh questo è un commento clamoroso anche un Bobby 2.0 un Janemba non sarebbe male ma raga possiamo vedere solo personaggi nuovi per favore solo roba nuova beh dipende se il personaggio nuovo è Glorio onestamente a me non è che abbia convinto tanto Glorio fino ad adesso anche il fatto che combatta con le pistole poi sono pistole strane perché l'abbiamo visto nel terzo episodio quando quello dell'albergo vede la pistola si caga addosso possibile con la rivista il gelato contro Gotenks nella stanza spirito del tempo si 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 ha fatto tutto Lilith Toriyama tutti e venti gli episodi ha scritto tutto gli episodi tutti i personaggi ah solo 20 e l'elementazione fa tutto Dragon Ball solo quello Z no non penso proprio tra l'altro ti aggiungo su una cosa Betto se vuoi trollare così lo puoi fare ma Z è una cosa dell'anime eh vabbè ma questo è il discorso che facevo io l'altro giorno per Toriyama esiste il manga chiaro è per noi degli anni 90 italiani cresciuti con l'adattamento Mediaset esiste Dragon Ball e Dragon Ball Z non mi avrai mai Dario mai Z è una roba dell'anime quindi non ha senso quello che hai detto pensi che Vegeta avrà un ruolo importante o verrà accantonato come all'inizio di per me Vegeta farà cagare in questa serie no no torna per fare la sgravata secondo me gli episodi dovrebbero essere 24 ah ok vabbè cambia poco sono Dario non toccate il primo Dragon Ball no no si può toccare tutto per me Adro Abra Adolf solo Abra Adolf fare questi commenti passivi e aggressivi tra l'altro citando i miei meme del 96 solamente per giustificare il fatto che Toei ti doveva dare granola è un po' cringino però è un po' cioè è un po' povera come costruzione di un pensiero cioè cerca almeno di costruire qualcosa se vuoi fare una critica scrivimela citare un meme in maniera così abbastanza passiva e aggressiva è solo imbarazzante spiegami perché non ti piace o perché non ti piace il primo Dragon Ball e io tipo o perché era bello Super fai quello che vuoi tutto si può toccare però poi io ti rispondo però se ti rispondo non devi piangere a me l'anime di Super che è diverso dal manga è piaciuto soprattutto per l'utilizzo del genio che è ovviamente fuori contesto dai power level non ha minimamente senso ma quanto mi ha gasato tantissimo veramente in una maniera incredibile perché dici la tua e io dico la mia a me Dai ma sta integrando il GTC dal punto di vista sentinale ma li conoscono come essere un gran che detto questo perché andare in regno dopo che rimpiccioliscono perché non andare a cercare le sfere per tornare ad essere come prima sì perché non sono andati su una mech questa è la grande domanda perché se no non avrebbero fatto la serie la risposta perché nel secondo episodio si vede gli dicono che c'è un nemico che ci sono dei nemici dentro al mondo demoniaco e go e vabbè torno grande dende torna a casa e poi vado a menarli da grande lo vedi si arrapa subito e va nel mondo demoniaco poi le pietre non ci sono non ci sono più perché sono diventate pietre e non possono fare nulla sì ma c'è una mech in più vanno a cercare dende vinici un sesto addirittura e dicono hanno rapito dende chi l'ha rapito è un demone potente forse a livello di poi magari un po' lunga avrebbe detto io fino al mondo demoniaco non ci posso arrivare eccetera eccetera si può vedere su netflix darbull eccetera e goku con la scusa di dende va nel mondo demoniaco sì forse dende è l'unico motivo per cui ah del pallone d'oro state parlando o drago goku non gliene frega un cazzo di dende non gliene frega nulla è vero non gliene frega un cazzo allora dicono che c'è un nemico c'è dei nemici eccetera vuole andare vuole andare non gliene frega un cazzo poi dende si va bene perché deve ricreare le sfere eccetera ma intanto va nel mondo demoniaco si vede nella puntata quando glielo dicono si eccita subito minchiale stesso addirittura forse più antico dragon ball su netflix quanto spero di vedere un goku mini super saiyan 3 io ripeto vorrei vedere nuove cose certo che potevate trasportarsi su namek io a me piacerebbe tanto la canonizzazione del super saiyan 4 che è una forma che può raggiungere solo da bambino questo mi piacerebbe tantissimo tornare di nuovo adulti con polung e poi andare al mondo demoniaco ma no dovevano recuperare dende ragazzi hanno rapito dende vanno da dende poi i nemici sono una scusa cioè dende è una scusa per il nome nemico esatto dende è proprio la scusa secondo me la cosa del tirato asporto la spiegano non so se avete notato ragazzi ma non ti stanno proprio dicendo tutta la prima puntata anzi si stanno tenendo le informazioni per loro io ho paura che il bastone possa essere inutile perché Goku lo prende perché non riesce a trovare le distanze col nuovo corpo invece già nell'arissa nel bar vediamo che le ha già trovate il bastone manco l'ha usato quindi o a un certo punto arriva qualcosa in cui il bastone è necessario come era stato necessario per raggiungere il palazzo del supremo o temo che sia stato soltanto un gran fan service per quelli come me che non vedevano l'ora loro magari non si può più teletrasportare Goku ma sicuramente anche in GT era così comunque a parte questo fa bene andare nel mondo demoniaco ma per costruire l'astronave Bulba non poteva andare nella stanza dello spirito del tempo può darsi ma anche Goku poteva andarci invece che allenarsi un giorno con le colonne ma senza usare la stanza dello spirito del tempo per andare a costruire l'astronave ma un'era tipo non si poteva usare pochissime volte solamente per questioni importanti non più credo per aggiustare l'astronave ma poi tra l'altro non so se si è ripristinata dopo Majin Buu perché viene distrutta completamente sì no c'è tant'è che in Dragon Ball Super la usano prima del torneo del potere Goku e Vegeta escono con la barba adesso non mi ricordo se anche nel manga esiste sta cosa era solo l'adattamento anime però tra l'altro anche lì se ricordo bene c'era stata la polemica perché ai Saiyan non crescono i capelli lascono così i peli non crescono e roba del genere non c'è l'ingresso e allora come fanno in super ad andarci sì Bulba non avrebbe retto la gravità d'accordo sì però se c'è davvero la stanza doveva entrarci Goku da bambino e allenarsi invece che ah beh perché qua è subito dopo una Jinbu in effetti potrebbe non esserci qua è passato più tempo magari l'hanno aggiustata è anche vero che Goku è tornato bambino potrebbe non reggere la stanza dello spirito del tempo come era accaduto la prima volta che c'era entrato è vero non so se l'hanno ripristinata non viene detto ma poi tra l'altro viene detto che nella stanza dello spirito del tempo c'è la pressione assurda è un casino viverci proprio solo respirarci come fa un'umana normalissima ad andare dentro alla stanza dello spirito del tempo purtroppo gli universi paralleli vanno fatto malino ci sono cazzatine dentro tipo la roba del no no solo chi ha usato già le sfere può usare ecco un'altra cosa su cui è racconnato super può esprimere tre desideri voi no uno solo la fidelity card del drago però dare una scusa per attirare Goku nel mondo di Foice il mondo demoniaco il mondo di Foice è bello per avere solo 24 episodio e ha già tre cazzate valla a D a tuo amato One Piece vai Jet Pistol valla a D ma non deve essere una lotta tra Dragon Ball e One Piece la gravidanza di 18.000 mesi di Rouge di Ace valla a D a tutta la marina che c'ha davanti cioè poi non fa un cazzo ma ammazza il figlio legittimo il figlio di Cold Roger che non contava una sega valla a D valla a D a Mugiwara che dopo due anni di allenamento piangono non si danno nemmeno un abbraccio e parte una bomba senza senso ti ha dato fastidio che non si siano abbracciati valla a D a Cinque Asti di Saggezza che ogni volta che parlano crea un buco di trama valla a D a Pura e il muro dentro la stanza dei Cinque Asti di Saggezza quello è clamoroso dai è una gag incredibile poi che ci sia l'acchi della percezione e nessuno è un altro discorso ma Wapol non me lo toccare c'è Wapol che lo spia loro non si accorgono di niente perché l'ambizione e l'osservazione non mi toccare Wapol c'è solo quando ci pare a noi non hanno trovato neanche cosa con la percezione neanche Sabo quindi vabbè eccetera eccetera dopo il disegno non leggo lo spoiler eccetera eccetera beh sì però insomma poi c'è anche il cervello Oda sempre più come Kishiboto vabbè l'ultimo capitolo è stato interessante di One Piece sì raga ma non mi interessa molto sinceramente cioè a parte che ho smesso di leggerlo e poi comunque ha smesso davvero di leggere One Piece alla fine comunque lo riprenderò fra un po' One Piece e poi non è che se c'è una tavola bella o due tavole bella allora mi scordo di tutto quello che ho patito in questi ultimi anni Dario mi rimandi la foto dei piedi che l'ho persa non ti ho mai mandato niente che commento finale è incredibile va bene beh direi che abbiamo fatto la nostra discussione anche su su Dragon Ball in attesa di quello che sarà il quarto episodio che dovrebbe uscire venerdì e poi